Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Beh, allora riprendiamo un attimino i discorsi iniziati sulla prima parte della trasmissione. Voi sapete che, niente, praticamente la Cecilia Gatto Trocchi si è suicidata. Lo sapete perché tutto sommato appaiono un paio di articoli sulla Repubblica, sul Gazzettino, però tutto sommato la stampa ha evitato di dare pubblicità alla cosa. Perché? Perché la Cecilia Gatto Trocchi era un agente destabilizzatore del Vaticano e aveva la funzione di costruire odio sociale nella società italiana. Cecilia Gatto Trocchi deve affrontare la vita, non è in grado di affrontare la vita. Ha difamato, infamato, offeso tutti quelli che avevano una religione diversa. Ha inventato puttanate, stupidaggini, ha addirittura scoppiazzato da quel che mi risulta qualche libro, però di questo non ne sono proprio certo. E la Cecilia Gatto Trocchi si è buttata dal quinto piano del pianerotto dei casassù e si è ammazzata. Avere compassione per questo tipo di persone significa avere in disprezzo la situazione sociale. La società è fatta di individui che affrontano la loro esistenza, si danno da fare, cercano di risolvere le contraddizioni e dal punto di vista spirituale cercano di trovare quelle soluzioni al loro essere persone soggettive, al loro essere persone sociali al di fuori del cattolicesimo, al di fuori del cristianesimo. Il cristianesimo è solo orrore, morte, distruzione, stragismo. E per contro propaganda una visione neoplatonica della religione che è una visione più legata al neoplatonismo che non alla Bibbia. Per cui da un lato abbiamo un cattolicesimo che propaganda una visione neoplatonica del suo Dio, dall'altra parte abbiamo una chiesa cattolica che pratica il macellare Sodoma Gomorra, il pazzo dei Nazareth, e tenta di distruggere sistematicamente la vita delle persone. Le persone vivono queste contraddizioni in maniera quasi inconsapevole, cioè non riescono a identificarne l'origine dell'orrore, l'origine dei loro problemi, l'origine di quelle che sono le contraddizioni, della loro esistenza che non riescono a risolvere. Si sentono disarmati, si sentono disarmati in ufficio pubblico, si sentono disarmati davanti alla burocrazia, si sentono disarmati davanti alle istituzioni, si sentono disarmati quasi in ogni ambito sociale. E l'origine di questo non hanno consapevolezza, non sono in grado di vedere come l'origine dell'incapacità delle persone di affrontare i loro problemi stia nell'educazione cristiana, stia in quel lavaggio del cervello che sistematicamente preti assassini, gentaglia come Scola, come Mattiazzo, propinano con una violenza criminale degna del peggiore di terrorismo, cioè sparano nella psiche delle persone, la psiche dei ragazzini, al fine di impedire loro di diventare persone sociali. Ebbene, la Gatto Trocchi aveva questa funzione, pertanto a me fa piacere che sia morta, e fa piacere che sia morta in quel modo infame, che si sia suicidata, che abbia visto la disperazione venirla incontro, perché era una criminale che non meritava nessun rispetto. Tant'è, torno a ripetere, che la stessa Polizia di Stato ha dovuto intervenire nei confronti della Gatto Trocchi, ha dovuto intervenire per ridimensionare quelle dichiarazioni folli, allucinanti che lei faceva, millantando 500 mila satanisti in giro per l'Italia che sequestravano bambini, che è una cosa veramente abberrante, è una abberrante perché se è vero che né Polizia né magistrati davano credito alle sue affermazioni folli, è altrettanto vero che gli davano credito i sindaci vigliacchi, gli davano credito la stampa vigliacchi, cioè tutte quelle persone che avevano degli interessi soggettivi per costruire il disagio sociale, per costruire nei cittadini l'incapacità di affrontare la loro esistenza, perché di questo loro si facevano forti, ed è vergognoso tutto questo, ed è per questo che tutto sommato mi fa piacere che si sia suicidato, ma mi dispiace quasi perché è morto troppo velocemente, avrei preferito un'agonia alla Voitina, in modo di prendere coscienza di quanto ha odiato, di quanto ha danneggiato, di quanto odio ha seminato nella società civile, e questo è il mio necrologio allegato a Trocchi, tutto il disprezzo che avevo quando ero in vita è il disprezzo che ho oggi, perché non si tratta di una persona che è morta, ma si tratta di un insieme criminale che sta danneggiando e saccheggiando l'intero nostro sistema sociale, sta creando difficoltà, sta creando situazioni che sono praticamente incredibili, cioè persone che hanno sentimenti religiosi diversi dal cattolico, si trovano criminalizzati, si trovano indicati col dito, persone, non so, tanto per fare un esempio, il cerchio di Firenze 77, persone che non sono proprio cattoliche, sono diverse, persone che hanno una visione diversa della realtà, anziché trovare altre persone che dicono no, guarda, tu stai sbagliando, vedi le cose in maniera diversa, cioè abbiamo due modi di vedere le cose diverse, si sentono criminalizzati, indicati a dito, diffamati, offesi, indicati come pericolosi, da chi? Dalle forze dell'ordine, Dall'Adigos no, dalla magistratura no, ma da degli sciacalli, sciacalli criminali che si chiamano Aris, che si chiamano Cris, che gestiscono anche i seminari del Vaticano al fine di consentire al Vaticano di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti a un crocevisso. È una vergogna, è un insulto alla Costituzione, è effettivamente attività di eversione dell'ordine costituito, perché questo ordine costituito è l'ordine democratico che deriva dalla Costituzione e non dal macellaio di Sodome e Gomorra e il pazzo di Nazare. Questo mi interessava comunicare ai radiascoltatori, perché ricordatevi che non è che quando una persona muore tutto è finito, ma è invece il contrario, quando una persona muore almeno altre dieci si precipitano a coprire quel ruolo, perché attraverso quel ruolo la Cecilia Gatto Trocchi prendeva soldi, attraverso quel ruolo la Cecilia Gatto Trocchi prendeva potere, tant'è che non c'era nessuna trasmissione televisiva riguardante Sette, Vica, Pagani, in cui lei non fosse invitata. Ed è veramente una vergogna tutto questo, perché lei era invitata per diffamare, lei era invitata per offendere, lei era invitata per diffondere notizie false finalizzate alla destabilizzazione delle istituzioni e altre dieci persone sono pronte a prendere quel ruolo che lei ha lasciato libero, quel suo suicidio. Pertanto ricordatevi bene che se volete costruire il futuro dovete imparare a chiamare le cose con il loro vero nome. Prima avevamo un diffamatore criminale che era Maurizio Antonello, che si inventava le cose più folli solo per soddisfare la sua brama di morte, la sua patologia psichiatrica. Poi abbiamo avuto la Cecilia Gatto Trocchi e fanno due. Il terzo, il quarto e il quinto arriveranno, coi tempi e coi modi, ma non arriveranno perché io so profetizzare. arriveranno perché per diffamare il sistema sociale, per costruire disagio sociale, per costruire odio nella situazione sociale nella quale noi stiamo vivendo, è necessario avere delle patologie psichiatriche. Non è possibile farlo in maniera diversa. E quando si hanno delle patologie psichiatriche e la vita ti porta davanti il conto, ti porta davanti la realtà dell'esistenza, le contraddizioni, le persone non sono attrezzate ad affrontarle, non sono attrezzate a stringere i denti, non sono attrezzate a guardare il tempo che viene il loro incontro. E quelle contraddizioni che la vita li porta davanti le travolgono. Pertanto, aspettatevi il terzo, il quarto e il quinto. Chi sarà non lo so, né come né dove né quando, però so che ci saranno. Bene, cambiamo argomento, dopo il nostro micrologio la Cecilia Gattotrocchi e il suo odio che ha spanto. E passiamo un attimino a prendere in mano delle risposte che ho dovuto dare in forum a delle richieste che mi sono prevenute sempre in forum. Le richieste di un tale Giuseppe. Nelle richieste che mi fa, praticamente, questo Giuseppe mi chiede in maniera pressante l'origine dell'universo, cioè l'origine della vita. Perché è così importante la domanda sull'origine dell'universo e l'origine della vita dal punto di vista pagano? Perché a seconda di come si legge l'origine dell'universo e l'origine della vita, a seconda delle idee a priori che si mette a monte dell'universo e dell'origine della vita, così si sviluppa la vita, cioè così si organizza lo sviluppo dell'esistenza umana. Per questo è importante che noi parliamo dell'origine dell'universo, dell'origine della vita. Ed è una domanda pressante che mi viene rivolta in continuazione, in maniera forte, in maniera sistematica e da più parti. Perché? Perché riuscire a comprendere che la vita è bastante a se stessa, cioè che la vita ha origine da se stessa, in se stessa, per se stessa, è un concetto che esula da quella che è la struttura educazionale che i monoteisti impongono sulle persone. Esulando da questo, ogni persona ha la necessità di comprenderlo a modo suo. Cioè in pratica io mi sento subissato di interrogazioni rispetto all'origine della vita, rispetto all'origine dell'universo, perché ogni persona deve riuscire a capirlo a modo suo. E solo in quel modo, cioè solo capendolo a modo suo, lo può trasferire nel suo modo di pensare il mondo e nel suo modo di vedere il mondo. Per cui io mi troverò sempre a dover affrontare persone che mi dicono, sì vabbè, è l'origine della vita, visto che l'idea ex nichilo non esiste, la creazione del nulla è una bubbola, è una truffa, è una vigliaccata, è una porcata, è un'infamia fatta dai cristiani per stuprare i bambini, per distruggere la vita, per sottomettere gli esseri umani a una verità rivelata a monte. E allora mi si chiede in continuazione questo tipo di affermazioni. E io ogni volta sono costretto a rielaborare in continuazione quello che è il discorso sull'origine della vita, sull'origine dell'universo, partendo sempre dall'interlocutore. E allora, visto che ho questi interlocutori, vi li passo a voi. D'altronde è lo stesso lavoro che stiamo facendo anche interpretando le Upanissadra vediche, perché anche quando interpretiamo le Upanissadra vediche, le visioni dell'Upanissadra che stiamo interpretando sono rivolte proprio all'inizio della vita e ai meccanismi che portano in essere la vita. Naturalmente questi vengono interpretati dal punto di vista culturale, cioè della cultura vedica di quei tempi, siamo fra il 1000 e il 600 avanti Cristo. Però i meccanismi sono sempre quelli, sono sempre gli stessi. È necessario che ogni persona però quei meccanismi li viva soggettivamente, cioè riesca a interiorizzarli soggettivamente. Ed è questo praticamente per cui vengo pressato. Naturalmente non a tutte le domande rispondo, rispondo soltanto quando vedo che c'è passione nelle persone. Dico io e riassumo un po' anche il pensiero di chi mi pone le domande. Mi sembra evidente, forse solo a me, che per rispondere ad una domanda che ha la sua origine nel monoteismo, da dove viene il mondo e la vita. Vi ricordo che è una domanda monoteista dire da dove viene il mondo e che finalità ha la vita. E basta, cioè non è una domanda pagana politeista. E dare una risposta coerente dal punto di vista del paganesimo politeista è necessario cambiare i fondamenti della filosofia. Proviamo a vedere come si origina la domanda che fai. Tu dici, non hai risposto in ordine alla questione dell'origine o meno dell'esistente nel paganesimo. Da dove nasce l'esigenza di porre questa domanda? Dalla soggettività di chi la esprime. Chi la esprime afferma, io che manifesto tutta questa intelligenza, tutta questa ragione, sono importante. Cosa ha manifestato tutta questa mia capacità? Qual è la sua origine? E qui esistono i vari giochi dell'auto-identificazione soggettiva. Eliminiamo questo soggetto che afferma di essere intelligente, razionale e pensante. Annulliamone la ragione che si è imposta su di lui negli ultimi 15-20 mila anni. Ed abbiamo un qualunque animale della natura. A mio avviso è necessario partire da questo presupposto per comprendere l'universo e il suo continuo divenire e trasformazione. Noi esseri umani siamo educati, anche quando non appare l'influenza monoteista, ad esaltare noi stessi mettendoci al di sopra delle altre specie della natura. E nel farlo non ci riferiamo mai alla vita nel suo sviluppo, ma ci riferiamo alla nostra ragione. Non cerchiamo le ragioni dell'esistenza della vita, ma le ragioni della supremazia della nostra ragione su tutte le altre forme di espressione degli esseri della natura e di noi stessi. Ci troviamo a vivere la contraddizione per cui usiamo termini che si riferiscono alla vita, ma cerchiamo le ragioni di supremazia della nostra ragione. La forma, i numeri, la quantità, è tutto convenzionale, non esiste. O meglio, esiste come metodo di ricezione e trasmissione all'interno della nostra specie, ma non esiste negli oggetti in sé. Ti faccio un esempio. Se tu mi dici questa sedia costa 100 euro. Quello che tu dici ha un senso per chi sa che cos'è una sedia, per chi sa che farsene della sedia, per chi vive in una società retta dalle leggi che regolano la circolazione della moneta, eccetera, eccetera. Se tu vai in una società che non conosce l'uso della moneta non sanno che cosa stai dicendo. Peggio ancora, se parli con essere l'ombrico del valore e dell'utilità di una sedia. Eppure devi convenire che sia tu che l'abitante di una società che non conosce l'uso della moneta che è l'ombrico, c'è un elemento comune, ed è la vita. C'è la capacità soggettiva di adattare se stessi al meglio all'interno delle condizioni incontrate nell'oggettività. Soltanto se condividiamo questo possiamo parlare dell'origine della vita dal punto di vista del paganesimo politeista. La vita, non la ragione degli esseri umani, né la proboscite dell'elefante, né le zanne del leone. Perché dico questo? Perché quando c'è la percezione dell'inizio dell'universo da parte della nostra struttura psichico-emozionale, la ragione proietta se stessa su quanto percepito, e ci mette lo zampino. Causa incausata, motore primo, essere assolutamente necessario, eccetera, eccetera. L'unica realtà della quale noi siamo consapevoli è che la caratteristica dell'acqua è quella di bagnare. Perché l'acqua bagna? L'analisi scientifica ci dice che le sue particelle sono composte in un certo modo, per cui hanno un carattere particolare di adesione per le caratteristiche intrinseche, eccetera, eccetera. Sta di fatto che anche prima che la scienza cercasse le spiegazioni, comunque l'effetto dell'acqua era quello di bagnare. Così la caratteristica della particella più piccola della materia, che noi chiamiamo energia vitale, e che compone il mattone primo di tutto ciò che esiste, ha la caratteristica di passare dallo stato di inconsapevolezza a quello di consapevolezza di sé, qualora incontra le condizioni favorevoli. Come l'acqua ha la caratteristica di bagnare, così la materia o l'energia, se vuoi, che tanto sono stessa cosa, hanno la caratteristica di diventare consapevole di sé. Pertanto, anche la vita si sviluppa prima che la teologia monoteista indicasse delle ragioni per le quali la vita si è sempre sviluppata. E, tutto sommato, alle religioni pre-monoteiste non è mai importato nulla delle spiegazioni per le quali la vita si è sviluppata. Non troverete nessun padrone della vita prima del settecento avanti Cristo. La donna dei cananei aveva un altro significato, anche se può essere stato mutuato dagli ebrei. Quando dici, perché, se si giunge a dire che a un certo punto tutto si è generato perché un qualcosa di primo ha raggiunto la consapevolezza di sé, si torna al punto di partenza? C'è un atteggiamento da raggiungere. C'è un primo che aggiunge la coscienza di sé. Nella mia visione erano alcune galassie, alcune ammassi stellari, altri li seguirono a ruota. Dopo il Big Bang, chiamiamolo così, però loro non dettero il via alla vita. Loro erano la prima manifestazione della vita. Non hanno creato la vita, erano la vita stessa. La vita che iniziava il suo processo di divenire, perché la vita è manifestata dalla coscienza di chi riconosce sé stesso diverso dal circostante e mette in atto azioni attraverso le quali di sviluppare sé stesso. Non stiamo parlando della stessa cosa dei monoteisti. Fu uno dei motivi per cui mi fu facile passare dalla visione cosmologica del libro dell'Anticristo alla teogonia di Esiodo, anche se quando scrissi il libro dell'Anticristo avevo un certo disprezzo per la religione greca, per come me l'avevano raccontata. E su questo passo faccio una parentesi perché ho comperato un libro dell'Adelfi scritto da Igino. Igino è un compilatore di teogonie, è uno che riassume le teogonie più o meno ai tempi di Augusto. Il libro di Igino, I miti, è forse uno dei pochi libri scritti in latino e tradotto ai greci. Praticamente noi abbiamo un passaggio della cultura religiosa popolare, per cui al di là delle religioni misteriche, poi sono altre cose, c'è un altro passaggio di un altro livello ancora. Per cui praticamente i miti greci vengono spiegati ai greci attraverso gli occhi di un bibliotecaio di Augusto di Roma. Il risultato è che al bibliotecaio non gli interessava il simbolismo del mito, ma gli interessava il racconto pure semplice. Per cui a un certo punto una volta che si levano via i significati del mito, cioè la rappresentazione esoterica di quello che il mito nasconde, di quello che il mito vuole trasmettere, restano solo delle storie, più o meno cruente di quello che chiunque può fare. Pertanto Igino, quel libro di Igino, andò perduto e venne riscoperto attorno al 1500. Non fu conosciuto da Boccaccio, fu conosciuto però dai Cartari, che compilò gli Dei degli Antichi, uno dei primi libri sui Dei degli Antichi ed ebbe grande fortuna quel libro di Igino in tutto il periodo illuminista e tutto il risorgimento, 1800-1900. Il problema è che a Igino non gli ne fregava niente del mito come religione, gli fregava soltanto le storie. E praticamente le storie di Igino vennero spacciate dai cristiani come praticamente ciò che era il mito della religione antica. Per questo tutt'oggi comunque c'è questa impostazione. Io sto leggendo in questo momento un libro che si intitola, non ho il titolo preciso perché io ce l'ho in testa però, la fisiologia del mito ed è a cura di Mario Untersteiner, un docente di Genova, però un libro del 1946. Ebbene nel 1946 questo personaggio che tratta della fisiologia del mito, fra le altre cose afferma l'idea dell'eterno ritorno porta in sé il principio dell'impossibilità della creazione ex nihilo e dell'annientamento in ilum e questo è uno dei concetti basilari del pensiero greco. Cioè praticamente questo personaggio fa una specie di gerarchia delle credenze per cui siamo al vecchio discorso della gerarchia delle religioni. Prima c'è stato lo sciamanesimo, dopo arriva il totemismo, dopo arriva le religioni politeiste, dopo arriva il monoteismo. Cioè questa gerarchia che è una gerarchia da deficienti, da mentecati e che è stata usata nei secoli scorsi, non nel secolo scorso più che altro, per dimostrare la superiorità del monoteismo rispetto alle religioni antiche. In realtà non è assolutamente così, era semplicemente un tentativo del monoteismo di riaffermare se stesso. Pertanto la visione dei greci, la visione che io avevo dei greci era questa visione, cioè una visione che era estremamente retroverda rispetto a ciò che è effettivamente il mito greco. E per far questo anche io ho dovuto superare parecchi ostacoli, ho dovuto leggermi direttamente quella che era la regione dei greci, dei miti greci e interpretare dal punto di vista della stragoneria. Ho dovuto superare in pratica quella che era l'imposizione del monoteismo rispetto al mito greco, che è una cosa diversa. Vado avanti, c'è un primo che raggiunge, per come me l'avevano raccontata. Tu dici, inoltre andando indietro si rischia di arrivare al punto di dire che esiste un'entità da cui tutto origina. Può essere esso il Big Bang, il macellaio di Sodoma e Gomorra, Allah, perfino il nulla, può diventare l'ente originario. Rispondo, questo è un problema. Innanzitutto diciamo che prima del Big Bang c'era una coscienza universo. La coscienza universo muore. L'energia vitale che la compone si disorganizza, manifestando quello che i greci chiamano caos primigenio. Ciò che a noi interessa sapere è che prima c'era il rumore della vita, ora nel caos primigenio non c'è più il rumore della vita. Non c'è più fino a quando le prime galassie non riconoscono se stesse diverse dal circostante. Il Big Bang è il passaggio da uno stato di consapevolezza dell'universo a uno stato di non consapevolezza dell'universo, uno stato di disorganizzazione della struttura dell'energia vitale che la mitologia greca definisce caos. Dal caos emerge la vita, per trasformazione e in continuo divenire. A me ciò che non si esprime non interessa. A me interessa ciò che si esprime, la vita di cui siamo parte. Ed è nella vita che costruisco le strategie d'esistenza, in base alle mie possibilità. Ogni essere, in base alle proprie possibilità, percorre il proprio sentiero nell'infinito dei mutamenti. Ed è questo il nocciolo fondamentale anche per il discorso che facevamo prima per la Gatto Trocchi. Cioè, se gli esseri umani devono affrontare le loro contraddizioni, cioè la loro vita, è dovere primario dei genitori attrezzare i figli affinché sappiano affrontare in maniera eroica la loro vita, in maniera consapevole, in maniera responsabile. È un dovere dei genitori fare questo. Se il genitore si è messo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e mette in ginocchio suo figlio, in realtà non fa altro che disarmare il suo figlio davanti alla vita. E quando quel suo figlio trova delle contraddizioni nella vita, non ha armi, non ha strumenti, non ha mezzi con cui affrontarle. È vero che puoi avere la raccomandazione politica, è vero che ti puoi piazzare bene sul posto di lavoro, ma la vita non è fatta solo di raccomandazioni politiche e neanche di buoni posti sul lavoro, è fatta di relazioni emozionali che ci sono fra noi e il mondo. E se la nostra struttura emozionale non è attrezzata per affrontare in maniera corretta e consapevole ciò che ci è relazione fra noi e il mondo, alla prima contraddizione, alla prima mazziata, abbiamo poco di avere la raccomandazione politica o essersi piazzati bene su un posto di lavoro. Dal caos emerge la vita per trasformazione e in continuo divenire. A me ciò che non si esprime non mi interessa, a me interessa ciò che si esprime, la vita di cui siamo parte. Ed è nella vita che costruisco le strategie d'esistenza in base alle mie possibilità, ogni essere in base alle proprie possibilità percorrere il proprio sentiero nell'infinito dei mutamenti. Un'altra cosa da precisare, nel vuoto siderale c'è solo l'oggetto che manifesta il Big Bang, non c'è una volontà al di fuori di esso. Se ci fosse una volontà al di fuori dell'oggetto, le azioni diventerebbero oggetto manifesto, per il veggente che pratica stragonaria. E su questo non c'è mediazione. Chi afferma il contrario lo dimostri. Affermare il contrario non è un'altra ipotesi, è una truffa. Il truffatore afferma qualche cosa di contrario e chiede di metterlo sullo stesso piano. Io non dimostro l'esistenza dell'oggetto e tu non dimostri la non esistenza dell'oggetto che affermo. Fa parte dell'insieme, dei discorsi ingannevoli. Infine, un discorso sugli dei. Tutto quanto esiste è un croggiolo di dei. Non esiste nulla che non sia un sistema di relazione fra dei. Possiamo dire che tutto ciò che esiste è energia? Lo possiamo affermare. Possiamo dire che tutto ciò che esiste è energia? Lo possiamo affermare. Ogni affermazione è corretta. La differenza sta nel cuore, nel come noi puntiamo la nostra attenzione e le strategie di vita che mettiamo in atto, considerando l'oggetto in un modo o nell'altro. Un bosco è fatto da un insieme di vegetali e animali. Affermazione corretta. Un bosco è un insieme di forme. Affermazione corretta. Un bosco è un insieme di dei. Affermazione corretta. In queste tre affermazioni parliamo dello stesso oggetto, il bosco. Lo stesso oggetto formato da altri oggetti. Possono essere un insieme di animali e vegetali, un insieme di forme o un insieme di dei. Non cambia l'oggetto a cui noi ci riferiamo. Cambia il modo di porci davanti a quegli oggetti e gli atteggiamenti che assumiamo. Ti sembra che un bosco sia statico? Ti sembra che quegli dei che lo compongono siano in un limbo? Pensa a tutto quello che esiste come un immenso bosco. Questa è la visione degli dei nel paganesimo politeista. E per ora mi fermo qui. Non la correggo, ma penso che questa la farò anche in trasmissione in radio ed è quello che sto facendo. Dici, andiamo avanti perché dopo la prima arrivò anche la seconda. Dici, per evitare confusioni con le concezioni monoteiste, il paganesimo politeista non concepisce un primo, non c'è origine, non c'è un motore immobile, l'uno o il trino, una coscienza universo, non esiste una qualsiasi realtà manifestata o derivata da un'entità il di fuori di essa. Tutto agisce inconsapevolmente, persino senza volontà esterne, dentro l'indefinibile, ma inconscio ed inconsapevole. Lo rispondo. Anziché pensare alle cose come un prima e un dopo, pensa alle cose come un conseguenziale. Non è che prima c'è una cosa e poi ce n'è un'altra, ma data un'oggettività che ha una qualità, che è in possesso di caratteristiche, ne consegue che dei soggetti manifestano se stessi diversi dal circostante. Ne consegue che tale manifestazione avviene mediante azioni. Ne consegue che tali azioni producono dei turbamenti nel mare da cui loro stessi sono emersi e tali turbamenti a loro volta favoriscono l'emergere di altri soggetti che riconoscono loro stessi diversi dal circostante dal quale sono emersi, eccetera, eccetera. Ciò che muove il soggetto è io esisto e sento il bisogno di espandermi. Il bisogno di espandersi è il bisogno di eros primordiale, di intento, di fanete, la forza intrinseca al passaggio soggettivo dall'inconsapevole al consapevole che spinge il soggetto a modificare la sua volontà. La differenza col monoteismo sta nel fatto che il paganesimo priva i soggetti della condizione morale di dipendenza dalle condizioni che li hanno generati, in quanto in quelle condizioni non riconoscono una volontà finalizzata alla loro generazione, nemmeno il far l'amore dei loro genitori, né una volontà che ne determini e diriga le proprie trasformazioni. La caratteristica del monoteismo è quella di negare che dalle condizioni i soggetti si generano, i soggetti si generano per una volontà programmatrice per i monoteisti, un'intelligenza che ne determina la loro esistenza e nel far questo il monoteismo rende dipendente le persone da tale volontà e da tale intelligenza. Dopodiché qualcuno decide che cosa vuole tale intelligenza e perché e il monoteismo procede di conseguenza. Il paganesimo nega anche che il venire in essere dei soggetti avvenga per caso. Infatti il concetto di caso è un concetto opposto al concetto di volontà creatrice e programmatrice. Gli esseri vengono in essere per le condizioni che si sono manifestate, vengono in essere come soluzione delle contraddizioni che si manifestano nell'oggettività nella quale essi vengono in essere. Se vuoi è eraclito, gli esseri vengono in essere perché l'oggettività esprime le contraddizioni che si risolvono mediante amicizia o contesa furente. Se invece vuoi adottare le categorie orfiche puoi dire che gli esseri vengono in essere perché nell'oggettività si manifesta armonia e persuasione. Lo scopo del monoteismo di far dipendere la vita da una volontà esterna è quella di renderla dipendente da se stesso, piegarla alla propria morale, soggiogarla, schiavizzarla. Questa schiavizzazione si riproduce nel contesto sociale. Tra tutte le leggi non venè più favorevoli a principi che la cristiana perché questa sottomette loro non solamente i corpi e le facoltà dei sudditi dove conviene ma gli animi ancora e le coscienze e lega non solamente le mani ma gli affetti ancora e i pensieri. Giovanni Bottero, riportato all'articolo Gardner su Repubblica del 6-7-2005 Il paganesimo afferma che gli esseri vengono in essere come manifestazione della soluzione delle contraddizioni che si manifestano nell'oggettività e a loro volta il loro vivere crea contraddizioni nell'oggettività in cui agiscono e tale azione manifesta condizioni in cui altre condizioni giugendo a soluzioni manifestano altri esseri che vengono in essere. Pertanto non esiste una forma soggettiva di dipendenza di un essere nei confronti di un altro, né questa può essere pretesa in base a dei canoni morali, etici o quant'altro. E questa è, detta in altri soldoni, la visione del paganesimo politeista sull'origine della vita che poi va a incidere praticamente sull'intera quotidianità. Cioè come noi pensiamo l'inizio della vita, così pensiamo la soluzione dell'organizzazione della nostra vita giorno per giorno. E questo è tutto. Praticamente questi pezzi li ho messi in forum sul paganesimo proprio in risposta a dei quesiti posti da una persona in forum. E questo è tutto. Anche perché quando faccio pezzi del genere difficilmente trovo tempo per scrivere altre cose o per preparare altre cose. Specialmente quando dopo ho quella questione in corso che ho avuto sul blog di Scalfari. Quella questione sul blog di Scalfari, ad un certo punto, indovinate dove va a sfociare? Va a sfociare sulla pederastia cristiana. Sembra qualcosa di incredibile, ma alla fin fine si va sempre a parare lì. Praticamente sembra che la pederastia cristiana sia il spartiacque fra quello che è il cristianesimo e il laicismo. Scrivevo su questo blog l'11 luglio alle ore 13 e 14. Ciò che a Scalfari, come i laici, agli anticlericali e agli atei sfugge, è che il cristianesimo non è una religione intesa nel senso umano del termine. Nel senso che non è un dharma né un'antica pietas dei romani, ma è una struttura coercitiva che pratica sistematicamente la manipolazione mentale, specie nei bambini, al fine di imporre loro un credo mediante la coercizione della loro struttura emozionale. I meccanismi di questa azione sono ben noti. Seguono due direttrici, una sociale, condizioni coercitive e morali della società imposte ai suoi membri, e una individuale, parentale. I genitori impongono mediante la violenza le loro idee aprioristiche sui neonati. Questo mette in atto uno stato di conflittualità permanente fra le forze interiori intime delle persone e le forze della coercizione emozionale che violentemente si impongono sulla singola persona. In particolare si muove Fanete, il primo emerso del luogo primordiale degli orfici, l'intento. L'intento che spinge gli esseri umani a spezzare le catene della coercizione monoteista, ognuno nel proprio mondo, ognuno secondo le proprie possibilità e le proprie forze. Si dice Eros che spezza le membra, ferite che scioglie i legamenti. Questo è l'emerge del paganesimo nella società attuale, è un'esigenza della società e degli uomini che la compongono. Finché non riusciremo a comprendere che gli dei e altri non sono che gli oggetti del mondo che agiscono dentro e fuori di noi, noi non saremo mai in grado di partecipare al grande gioco della vita e ci limiteremo a inveire nei confronti delle circostanze o degli ostacoli che impediscono la soddisfazione dei nostri bisogni, siano tali bisogni di natura individuale, sociale, economica o politica. Naturalmente un messaggio del genere, qual è la dialettica del cristiano? Mede un messaggio e dice che cosa ti sei fumato? E scrive subito dopo, finché non riusciremo a prendere un mio pezzo e dice bello, sembra la reclam per un nuovo gioco di ruolo in scatola o c'è anche la versione DVD? Allora rispondo, rispondo e dico davvero vuoi giocare a questo gioco? È necessario imparare a leggere il mondo in cui si vive e le sue tensioni, prima però è necessario imparare a leggere e a comprendere il significato, sicuro di esserne capace. E qua gli posto tutti gli index dei miei siti, praticamente i 5 index dei siti che gestisco. E gli dico, in paglio c'è la qualità della vita del paganesimo, il vivere per sfida, che porta alla trasformazione della morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso attraverso tutti gli sforzi che avremmo fatto con determinazione e con coraggio nel affrontare la nostra esistenza, sottraendoci dalla sottomissione imposta dalle religioni rivelate. Vivere con passione e determinazione in contraposizione al vivere per sottomissione o per sottomettere. Il Cristo dei cristiani sottomette a sé in quanto egli si ritiene padrone delle persone, in quanto figlio del Dio padrone. L'anticristo è la voce degli dèi che chiedono agli esseri umani di prendere la propria mano, la responsabilità della loro vita. e a quel punto comincia a scattare praticamente su un intero blog una serie di post, una serie di lettere, praticamente sulla pederastia dei cattolici. E allora intervengo e lascio un messaggio che dice, il 12 luglio alle ore 17.40, insegna di Gesù di Nazareth e la chiesa cattolica e cristiana ha sempre applicato con assoluta puntualità. Intanto, conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro e sguazzate in mia presenza. Luca 19.27. Continuo ancora una serie di lettere e allora metto un altro messaggio. Il 13 luglio alle ore 17.17. E dico, scriveva Zagherbevski su Repubblica del 5 luglio 2005 citando Paolo di Tarso, non è l'imitatio scristi per cui ogni credente è chiamato foglia del mondo? Ed è Paolo che spinge la pederastia come oggi la conosciamo e la foglia del credente nell'imitazione di Cristo. Già, quando i preti cattolici furono criticati per la loro attività di pederastia si difesero. Noi imitiamo Cristo. E voi tira ieri i razzi in ghiroggi non li possono condannare perché dovrebbero condannare il loro Cristo. Dice, vi fu però un giovinetto che lo seguiva avvolto in lenzuolo sul corpo nudo e lo presero, ma lui lasciato in lenzuolo scapo via nudo. Marco 14.51. Dopodiché seguono degli altri post e allora metto un post che dice, il paganesimo politeista è l'unica speranza per l'umanità, per il semplice motivo che il paganesimo politeista è l'unico sistema religioso capace di incidere sulla struttura emozionale delle persone e pertanto capace di rimuovere l'attività di manipolazione mentale con cui il cristianesimo ne ha condizionato la capacità di leggere il mondo. Sia i partiti politici di destra che quelli di sinistra sono tutti partiti cattolici, ognuno al loro modo, e le soluzioni sociali che propongono sono tutte cattoliche e come tali fonte sociale di conflittualità e disagio permanente. Solo il paganesimo politeista come insieme religioso è in grado di intervenire costruendo una diversa base religiosa dalla quale le società umane possono costruire il loro futuro. Non si tratta di tornare alle antiche religioni, né di proporre antichi sistemi sociali, si tratta di riconoscere che gli esseri umani vivono in un crogiolo di dei che costruiscono le loro strategie d'esistenza, che piace o meno a Hillman che della strategia vede solo Atena e non tutti gli altri infiniti dei della vita, all'interno delle quali ogni singolo essere umano costruisce le proprie strategie d'esistenza. In rete, cercate le varie presentazioni del crogiolo dello stregone. Il paganesimo politeista manifestato dalla federazione pagana, che piace o meno è il futuro dell'umanità. E così via. Praticamente tutto il dibattito mi ha portato via altri 20 post. 20 post per un totale di circa un centomila caratteri, tanto per farvi capire il lavoro che è stato fatto per mettere tutta questa roba. A un certo punto naturalmente qualcuno comincia anche a scherzare sull'appelativo guardiano dell'anticristo. E ora metto il post e dico se a qualcuno interessa perché sotto il nome aggiungo meccanico apprendista stregone e guardiano dell'anticristo può capirlo. E gli do l'indirizzo della pagina web. Non ha nulla a che vedere con le interpretazioni cristiane e definisce l'impegno al quale ho dedicato la mia vita, la costruzione del paganesimo politeista. Ciò che mancava alle antiche religioni, al di là di quanto si può prendere o tralasciare nell'epoca moderna, è la definizione di male finalizzato alla distruzione dell'uomo. Il cristianesimo è il male finalizzato alla distruzione dell'uomo. Ed è mio compito ovviare a questa lacuna nell'epoca attuale e nella società attuale. Farò naturalmente quello che potrò con le forze che avrò a disposizione. A un certo punto un povero disperato che non riesce a fermare un cattolico che ne mette di tutti i colori, scrive «Geppo e Claudio, Simeoni, lavoratevi un po' voi questo servetus della minchia, preti di mer, da rovina dell'umanità». Gli rispondo «Non esiste lavorarsi qualcuno. Quando uno ti dice «Esiste il mio Dio padrone e davanti ad esso ti devi inginocchiare», che ci discuti a fare?» Questi, i cattolici, quando le persone dicevano loro «Il tuo Dio non esiste» oppure «È diverso da quello che tu dici, li bruciavano vivi sul rogo». Adesso farneticano. La regola in filosofia del vivere civile vorrebbe che chi afferma l'esistenza la dimostrasse, o quantomeno dimostrasse che credere nell'esistenza di quel Dio fosse in una qualche misura utile all'umanità. Lasciamo a perdere pera che lui ha disposto a qualsiasi cosa per avere i voti del Vaticano. Non lo fanno e inveiscono a vuoto. Io ho oltre 200 diffamatori specializzati e pagati in Internet. Adesso ne ho uno di meno da qualche giorno. Davanti alla manipolazione mentale che distrugge la capacità dell'uomo di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e li costringe a confidare in un'esistente provvidenza. Non ci sono armi di difesa. Li si possono solo mettere nelle condizioni di non nuocere e aspettare che la natura faccia il suo corso, preparando per quanto è possibile le future generazioni con una dose minore di manipolazione mentale finalizzata alla loro sottomissione davanti ad un croce fisso. E qualcuno viene fuori. Lo sai che molti culti medio orientali, per esempio quelli di Baal, richiedevano la pederastia rituale? E tu, Vilmarrano, osi attribuire a Gesù Cristo il crimen horrendum? Sai da dove deriva l'espressione figlio di un cane? Diceva Petrolini. Che vergogna morire a 50 anni. Ecco la squalida fine di un cinquantenne che ha fatto parte della sinistra militante. Probabilmente nella sua folle autopromozione, Servetus, confonde l'illazione con la dimostrazione, oltre ad offendere gratuitamente le persone per le loro predilezioni e per le loro scelte. Illazione. Pederastia rituale nei riti di Baal. Dimostrazione. Dove sta? Dimostrazione che richiede l'incidenza della cultura antica nell'epoca moderna. Gesù è arrestato. Vi riporto. Vi fu però un giovinetto che lo seguiva avvolto in lenzuolo sul corpo nudo e lo presero, ma lui lasciato il lenzuolo scappò via nudo. Indicazione dottrinale seguita accuratamente ancora oggi dalla Chiesa Cattolica. Dopodiché, un altro post. Vediamo un attimino cosa arriva fuori qui. Un altro post e viene fuori. Una cosa è certa. Servetus applica puntualmente un'indicazione dottrinale del Dio e dei cristiani, come riportato dalla Bibbia. Dal momento che Servetus farnetica... Sì, vabbè, questo è del 1996 comunque. Dal momento che Servetus ha puntualmente un'indicazione dottrinale del Dio e dei cristiani, come riportato nella Bibbia, dal momento che Servetus farnetica, confondendo le illusioni nella sua testa qual è il prodotto della manipolazione mentale subita con la realtà, proviamo a citare le indicazioni dottrinale della Bibbia nei confronti dei sacerdoti di Baal. Allora Elia ordinò loro, prendete i profeti di Baal, non ne scampi nemmeno uno. Ed essi li presero, poi egli li fece scendere presso il torrente Cison, dove li sgozzò. E la precisazione di questa la faccio in un'altra e-mail. Comunque si tratta al primo libro di Re 1840, se vi interessa. Questa indicazione dottrinale è rimasta nella storia praticata da ogni adoratore del Dio biblico, al fine di macellare chi non accettava di sottomettersi. Servetus sta obbedendo a questa indicazione dottrinale. Ricordo a Servetus che la pratica di macellare che non si mette in ginocchio viene avallata dalla stessa descrizione di Gesù. Ricordate i personaggi che appaiono nella trasfigurazione? La trasfigurazione va da memoria. Uno è Elia insieme a Gesù. Due parametri dunque, illazione e cosa diversa dalla dimostrazione. Secondo un principio ideologico di manifestazione divina, può essere imputato come responsabilità morale se oggi, secondo un principio ideologico di manifestazione divina, può essere imputato come responsabilità morale se oggi non viene condannato, cosa che Servetus non solo non fa, ma giustifica l'attività pedofila di Gesù al fine di giustificare la pederastia pratica della Chiesa Cattolica. Comunque, se in rete cerchi Gesù di Nazareth e l'infamia umana, ho analizzato piuttosto attentamente molti aspetti del Vecchio e Nuovo Testamento, trovando ovunque orrore e morte finalizzata la distruzione dell'uomo ad opera di Gesù di Nazareth, i cui insegnamenti sono applicati non solo dalla Chiesa Cattolica, ma dai tuoi stessi poster, che violano le regole mentali del vivere civile al suo fine di giustificare l'attività di istruzione umana messa in atto dalla Chiesa Cattolica e dai suoi agenti. Un'altra L'ordine di sgozzare che non si mette in ginocchio e la pagliacciata a sua giustificazione la trovate nella Bibbia e precisamente Primo Libro dei Re 1840. La religione cristiana rappresenta all'orrore della storia. I cristiani hanno iniziato a macellare centinaia di migliaia di persone, come ebrei che aspettavano la fine del mondo. Alla distruzione di Gerusalemme dopo il 70, gli ebrei nella preghiera del sabato aggiunsero una maledizione nei confronti della seta cristiana che li aveva portati alla dispersione e i cristiani hanno continuato a macellare portando una sola novità nella storia, le guerre per imporre loro di assassino e campi di straminio per imporre il loro Gesù di Nazareth. Per maggiori informazioni leggetevi Storia criminale del cristianesimo di Karl Heitz Deschner edizioni Ariele. In italiano è uscito fino al sesto volume arrivando alle prime crociate, sei volumi di 400 pagine, l'uno scritte fisse di orrore cristiano. Servetus, citare con precisione per piacere, non offendere quelle illazioni. Il paganesimo politeista è una cosa seria, il cristianesimo è solo una truffa, una truffa alla quale milioni di persone sono costrette con la violenza ad accettare. Va bene, io do il viola di telefonate, 049-700-700 e 049-700-838, naturalmente va avanti sempre con i post. Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, sono Andrea, chiamalo Previso. Le volevo segnare l'articolo sul focus di agosto. Sì? Non so se lei... Alcune cose pagane messe fra i cristiani. Guardi, questo articolo titolo di pagani sono ancora franuristi. Sì, praticamente prende alcuni simbolismi pagani che vengono usati dai cristiani, vengono modificati dai cristiani. Certo, certo. Comunque ci sono delle belle immagini, delle pseudo ricostruzioni. Se lei l'ha letto, credi, io ho una mia idea personale e ce l'ho. Io sono un po', diciamo così, sul chi va là su queste cose, perché effettivamente l'imposizione del cristianesimo in una parte è avvenuta proprio rapinando tutte quelle che erano le feste, tutte quelle che erano le celebrazioni pagane antiche e sono state trasformate. Per esempio il 14 febbraio, che sarebbe la festa di San Valentino, allora era la festa dei Lupercali, cioè era la festa di accoppiamento, proprio di cercare anche la ragazza, cioè si distribuiva, la Roma antica distribuiva i bigliettini e naturalmente si pescava, si stava insieme con questa persona tutto il giorno, poi si vedeva se piaceva insomma. E c'era tutta una serie di tradizioni antiche, tipo il maiale per esempio, mi sembra una foto di ricordare, che era, non so, mi ricordo se di toro o di odino, viene preso e messo con un santo, cioè vengono rapinate tutta quella che era la simbologia della vita per mettere in ginocchio le persone, praticamente per far passare. Scusi, precisamente il maiale accanto a Sant'Antonio a Bote? Sì, 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 adesso non mi ricordo, adesso vado un po' a memoria perché ho visto qualcosina diciamo così, poi ho visto le feste dei Cieli erano tutte feste falliche, cioè si portava i falli praticamente, addirittura il cornetto che si usa a Napoli non era altro che un piccolo fallo di scongiuro che si usava, era il fallo di Priapo, ne sono stati trovati centinaia a Pompei, poi venivano nascosti perché facevano usceno insomma, però era normale, c'erano addirittura i falli dipinti per terra che indicavano dove erano i bordelli, insomma, tutta questa cosa è stata o distrutta dal cristianesimo oppure appropriata e modificata per i suoi fini, purtroppo si è… In tuttora alcuni riti padronali vengono paragonati ai live party, a queste feste diciamo anche notiche… Sì, beh, in live party vedo che hai citato, sì, ma in realtà c'erano tutta una serie di danze che erano danze tipo le baccanti, tipo altri che andavano in transa e erano proprio la chiamata, ma si usa ancora come sciamani, nello sciamanesimo si usa ancora questo tipo di transi, questo tipo di cose, c'erano, facevano parte della vita e purtroppo ci hanno rubato tutto e oggi non potremmo neanche riprenderle quelle cose purtroppo, perché non hanno più lo stesso valore di allora, perché un conto era sceneggiato, un conto era la cultura che portava a questo e ci hanno rubato tutto, non so… Va bene, vi scusi… Grazie a lei… Arrivederci… Grazie… Bene, io sono costretto qui a chiudere… Pronto? È velocissimo che sto buttando giù… Attento, Igino, Igino, che ne hai due Igini, Igino del 64 dopo… prima del Cristo… Caio Giulio… Eh ma questo Igino addirittura non si sa esattamente se sia stato lui a scrivere i miti… Però è un altro Igino del secondo secolo prima del Cristo che era scritto sulla mitologia… Esatto, quello del mito… Si parla di Augusto, praticamente siamo a cavallo… La prima edizione fu nel 1533… Si… Vedo solo sul garzazzino… Bravo… Esatto… Ok, butto il gioco via… Ciao, ciao, ciao… Niente, chiudo qui la trasmissione magia stragonaria Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo… Forse potassi che sia anche da solo… Per cui vedrò di prepararmi qualcosa di consistente… Ciao, ciao, ciao a tutti… Vado immediatamente con la pubblicità… Ciao… Ciao… Ciao…